e aspetta un po' cura a me buonasera a tutti i telespettatori che siamo qui siamo a casa di denise questa sera tutti quanti insieme in armonia guardate il pizzi film devo dire la verità è veramente bellissima ed emozionante un augurio particolare a tutti ciò carielli mi guardiamo un po' con la situazione anche del lato di là ciao meri saluta un po' con la situazione ciao bello no dici più forte che ti mettono una ricordata ciao bello ok ciao bello eh è più facile vai guardate ragazzi fra chi? fra di noi ma pure tu puoi su? pastore come è pastore? vai pastore sempre vai costo vai vai giù di che testa sei? ok ok hai scritto che immagino dei movimenti video? la scena di giusta mi Radia sto con la casa камera vai e' più fortuna ripeti altrimenti deve essere 3 videos inoses ha fatto ancora� Piacerezza eeeh guarda ma sti qua allora facciamo questo testo ok bacana in兩個 qu 누guido che sello sei? io può secondo te il seguito delle coppie che sono molti anni azzurro sono ancora uniti dalla passione e soprattutto a il dialogo profondo e sincero a una magica inserabile attrazione di una magica e la creatività di mantenere un'attività vai grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.